Il principe Harry, che ora vive negli Stati Uniti con la moglie Meghan Markle, ha fatto commenti a diversi media sulla famiglia reale in interviste televisive e podcasso il rapporto del principe Harry con la sua famiglia è diventato teso mentre continua a parlare pubblicamente della vita reale, dicono i rapporti. Il duca del Sussex, che ora vive negli Stati Uniti con la moglie Meghan Markle, ha fatto commenti a diversi media sullo studio. La coppia ha parlato con Oprah Winfrey a marzo per un'intervista bomba, prima che si unisse di nuovo al famoso presentatore per una serie Apple TV+. Harry ha anche rivelato dettagli reali sul podcast Armchair Expert con Dax Shepard, dove ha parlato del principe Carlo. E sia il principe che la signora Markle sono apparsi in un video con James Corden. Tutte le apparizioni dei media hanno attirato un'attenzione significativa per la famiglia reale, con Harry che ha descritto il suo dolore e sofferenza. Una fonte ha detto a Entertainment Tonight che i sentimenti tra i Sussex e il resto della famiglia continuano a essere tesi a causa della pubblicità. Il fatto che ci siano state diverse interviste aggiuntive per discutere di questioni familiari non ha aiutato la situazione", ha detto l'insider. Harry e Meghan si sono ritirati per la prima volta dalla vita reale nel marzo 2020, prima di confermare il trasferimento nel gennaio 2021. Si sono poi seduti pochi mesi dopo per la chiacchierata esplosiva con Winfrey, in cui sono state fatte accuse di razzismo. Buckingham Palace ha rilasciato una dichiarazione in seguito alla quale le questioni sarebbero state affrontate in privato. Anche il principe William è uscito in pubblico e ha detto che la famiglia era molto non razzista. Ma, dall'intervista con Oprah, Harry ha continuato a colpire la famiglia reale. È tornato in Gran Bretagna per i funerali del principe Filippo nell'aprile di quest'anno, ma per il resto si dice che non abbia parlato molto con i parenti. Harry ha accusato i reali di silenzio o totale negligenza quando si trattava di ogni singola richiesta, richiesta, avvertimento di aiuto con molestie che lui e sua moglie hanno subito nella sua chat di Apple con Oprah. E durante il podcast, Harry ha anche suggerito che la genitorialità di suo padre lo ha lasciato con dolore e sofferenza genetica e ha detto che voleva rompere quel ciclo mentre cresceva i suoi figli. Charles non ha commentato pubblicamente le affermazioni. Grazie a tutti.